Per evitare un cinghiale è finita nel fosso. È caduto nella mattinata di giovedì 21 ottobre intorno alle 7.30 sulla strada provinciale 40 a San Giusto Canavese. Una donna alla guida di un arreno Clio ha strazzato per evitare un cinghiale e l'auto è finita nel fosso l'auto carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea per la messa in sicurezza della vettura e la croce bianca volpianese. La donna, medicata sul posto, è fortunatamente rimasta illesa. Grazie per la visione!